Stefano, buongiorno. Buongiorno capitano, come va? Bene, grazie. Tutto bene? Allora, noi come squadra volevamo creare nel nostro scogliatoio un anno di Natale e aggiungerci qualcosa che usiamo quotidianamente in palestra. Hai qualche consiglio da darci? In Verona. Sono qui. Che ne pensi? Bello, però troppo piccolo. Mi dispiace. E' una sorta di dubbio. E rimediamo. Che ne pensi? Va bene Stefania, vado a vedere fuori che addobbi abbiamo. Buongiorno. Benissimo. Vai ragazzi, sentate. Due, tre, 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 tre. Trova un po'. Somma. Serve una soluzione alternativa. Ciao Vale, scusa se ti disturbo. Madinello, abbiamo proprio bisogno? Beh, sì, è il nostro giocatore, certo ne abbiamo bisogno. Ti spiego una cosa in privato. Va bene, sempre in Natale, certo che si può fare. Ok, diamo via l'operazione al Bernello. Bene, bene. Buona, giusto. Perfetto. Perfetto, grazie. Va bene? E questo va bene. Perfetto. Va bene, è super. Lo vedo che sto nella parte, Dario. Dario, maggiun di tanto. Bene? Perfetto, ragazzi. Perfetto, forte. Dello. Sì, dai, puoi andare, sei quasi perfetto. Oh, 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 oh. La goi, questo non è che hai fatto. Oh, grande questo. Buona parte. Buona parte. Dai ragazzi, andiamo dalle nasce. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ehi, la gopi, la gopi. Il miglior next date di 7 mesi Quando vuoi, partiamo, parlate forte Guardate tutti qua, pronti, quando volete Guardate tutti qua, pronti, quando volete